Molti automobilisti non sono a conoscenza delle normative in materia di patenti di guida, il che comporta un rischio per la propria sicurezza e per il proprio più di 1,5 milioni di automobilisti potrebbero guidare illegalmente, secondo una legge poco conosciuta. 1 su 4 automobilisti ha ammesso di non aver aggiornato la propria patente. La mancata rinnovazione del documento mette gli automobilisti a rischio di multe fino a 1000 euro. 1 su 4 automobilisti, circa 1,5 milioni di persone, non ha aggiornato la propria patente di guida in conformità con una legge poco conosciuta, il che potrebbe costare 1 su 4 automobilisti, circa 1,5 milioni di persone, non ha aggiornato la propria patente di guida in conformità con una legge poco conosciuta, il che potrebbe costare 1 su 4 automobilisti, circa 1,5 milioni di persone. è consigliabile informarsi presso gli uffici della motorizzazione civile o attraverso fonti ufficiali, come il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per questo motivo, è consigliabile informarsi. In questo modo, si potrà guidare in modo sicuro e responsabile, rispettando le leggi e la sicurezza degli altri utenti della strada. In questo modo, si potrà guidare in modo sicuro e responsabile, rispettando le leggi e la sicurezza degli altri utenti della strada. In questo modo, si potrà guidare in modo sicuro e la legge italiana stabilisce che chiunque voglia guidare un veicolo su strada deve essere in possesso di una patente di guida valida e riconosce. Per ottenere una patente di guida, è necessario superare un esame teorico pratico che attesta la conoscenza delle norme del codice della strada e delle tecniche di guida. Inoltre, la legge prevede che la patente di guida debba essere rinnovata periodicamente, come già accennato. Una volta che i conducenti raggiungono i 70 anni, devono rinnovare la propria patente di guida se vogliono continuare a guidare. Ai sensi dei regolamenti, il documento deve essere aggiornato a 70 anni e poi ogni tre anni. Queste regole sono in vigore dal 1907. Alcune ricerche dicono che uno su quattro automobilisti anziani aspetta almeno quattro anni per sostituire la propria patente di guida dopo i 70 anni. Uno su cinque in questo gruppo di età ha ammesso di non essere a conoscenza dei regolamenti. In conclusione, la legge poco conosciuta che richiede ai conducenti sopra i 70 anni di rinnovare la propria patente di guida ogni tre anni è stata ignorata da un numero significativo di. In conclusione, ciò potrebbe costare loro multe fino a 1000 euro se vengono sorprese a guidare con una patente scaduta. Ciò potrebbe costare